E me ne stavo messo a lavorare, rinchiuso dentro il maschio di rosserva. Conferenza e spettacolo musicale, con musica di Fabrizio De Andrè, ventieri di pelle, da Pietro Gori a Fabrizio De Andrè. Siamo nel back stage, non è solo, ma non mi serva. Mi dici allegro, grazie all'appunto a te, tutti i giornali parlano, combattono per te. Aspettiamo stasera, non è mezzo, grazie a noi.